dai vediamo un po' che cosa accade oggi nella mia isola vedo qui un puntino verde sul porto che cosa è accaduto attenzione una nave e questa quando attenzione attenzione sono rimasta basita pure io perché nave è arrivata dall'isola azzurra articolo di importazione camicia originale avanti e vai una nave miracolo oserei dire è una vita casc chips ha lasciato l'isola è una vita che non riceveva una nave lista degli scambi guardiamo un attimino l'isola azzurra quanti viaggiatori ho controlliamo ah no ho sbagliato è arrivato poco fa no pensavo di controllare tutte le persone che erano qui al porto vediamo un po' chiamiamo oh abbiamo informazioni su french whisk è buonasera è anch'io non si vede la nave e quindi era una due tre quattro cinque sei sette ecco sera ciao sidia va bene no non ti trattengo vai tranquilla siamo due quindi due non tocchiamo due due quattro otto dieci persone al porto oh mannaggia la miseria e meno male una se ne è andata vediamo un po' che abbigliamento nuovo ci è stato donato una camicia originale compriamola era diciamo un nuovo colore più che un nuovo oggetto procediamo andiamo a vedere invece l'abbigliamento nuovi colori di abito cuinese e nuovi colori a maglietta larga eccoci ecco dalla maglietta larga ho finito proprio tutte le collezioni di colori ottimo poi andiamo a vedere un po' qui il notiziario avanti che notizia è strampalata gran premio di capremi ok e chi ha vinto? addirittura svenuti dal troppo ridere vichie gio problemi con internet nel 2000 hanno vinto oh bene oh accidente addirittura ci manderete all'ospedale dalle risate sentiamo un po' ma era un intervista va bene va benissimo shock grazie della notizia e andiamo a vedere che attività possiamo oh un cuore mini ha un cuore non ho fatto un tempo a dire che attività che già c'era un cuore benissimo a noi i cuori ci piacciono ma anche no e c'è vai andiamo forza vogliamo un matrimonio alla luna park no va bene così ci piace così ti suggeriamo noi vai tranquilla sei in una botta di ferro vai tranquilla amina eccoci senti sicco vista Elvis eh ok attenzione guzziamo la vista latte si uccello niente latte cioè deve andare del latte deve andare al bagno vieni e vai ecco eravamo tutti in suspense proseguiamo e prima andata no si no questa è la mia sosia questa è la mia sosia ho sbagliato mannaggia no tranquilla ho sbagliato oh oh un cuore se n'è andata no no non sbagliamo non sbagliamo si ok vedrai che ce la facciamo vai e due attenzione patate arrosto latte si attenzione siamo arrivati al punto clou aguzziamo la vista abbiamo solo due possibilità cuore che batte no si oh ce l'abbiamo fatta di non rispondere di no oh alleluia battiamo le mani un altro matrimonio nella mia isola ottimo ai ai ma lo fanno subito ma certo che si e vai si la a noi una padella andiamo a vedere questo matrimonio questa cerimonia guardali qua come sono vestiti tutti agghindati per il matrimonio vai 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 ok si sono sposati veloci veloci ohlala quanta giornata invitata bravi bravi e vai anche il lancio del mazzolino luna di miele in africa stavo dimenticando della luna di miele no no non si sveglia avanti il prossimo si la a testa bassa entrambi prima che saltino questa volta quasi in volo rientriamo e andiamo un po' a vedere ecco bene un sumedir per noi ho un'ampolla con sabbia ma certo ma come sempre va a livello 21 potrei dargli un oggetto un oggetto un bel una bella racchetta da tennis per fare un po' di sport arrivederci uh moneta anche d'argento oggi giornata ricca di premi la prima osservo se ci sono altri cuori ma la vedo buia comunque torniamo indietro e volevo andare a vedere la nuova casa degli sposini andiamo un po' a vedere eccoli qua vediamo un po' qui che Abdallah e Vilu sono in casa c'è una richiesta di Abdallah vediamo un po' vediamo che cosa ci ecco è arrabbiatissimo vabbè da tanto che non facciamo paceri facciamo dai vai 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 cili con cane vediamo se ti piace per calmarti può darsi che sia andato tutto a posto ok vai vai corri a fare la pace con Alex con i capelli gioali fotonici ciao Alex oh ah ok si sono scusati pace fatta bene con la testa da cavallo bene ci clopped ci clopped verso il parco vai ti lascio si prima regalo poi vai dove vuoi ok perfetto torniamo indietro vediamo un po' invece qui chi è che ha arrabbiato super mario no speriamo non si è arrabbiato ma abbiamo una richiesta non ha arrabbiato anche lui no 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 ho già fatto pacere una volta per oggi allora andiamo un attimino a vedere a luna park che cosa c'è oh la busta è da tanto che non prendo la busta si la compriamo che cosa c'è al suo interno oh un diamante bollito alla francese e il terzo oggetto è scarpetta di cristallo cristallo e diamante oggi non si vada a spese non è banda benissimissimissimo ultima richiesta si si una richiesta una richiesta qua da vale un po' che non vedo vale quindi andiamo vale vestito da elegante e punk rock è un mistone grande vale oh ma vale gli mancano un sacco di alimenti tranquillo stile tropicale ce l'ho qui pronto vediamo se ti piace grazie perfetto ti è piaciuto a proposito vuoi guardare no grazie però cambiamo anche gli abiti vale perché cioè con questa stanza non puoi stare con questo pari luccone allora vediamo un capricapato una bella cuffietta no 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 mappere aspetta il mio no il tocco non è chiave no non saprei che darti una bella parrucca bel turbante vai tieni tieni bel turbante viola vai vale vai ce l'ha tutto sugli occhi vediamo anche del cibo continuo a dare il chili alla francese che è lì a disposizione ve lo ha gradito e vai passa di livello visto che siamo a livello 33 posso dargli anche un vestito e gli diamo un asciugamano visto che è al mare ecco così almeno è perfamente in linea con il mare può abbronzarti e via dicendo ciao ciao bravissimo una bella moneta d'argento per noi bene finita la prima parte di gioco arriva la seconda parte quella proprio fatta dai vostri sondaggi e vado appunto a prendere i vostri sondaggi mentre qui c'è qualcuno che corre in spiaggia e fa le buche bravi gli ultimi sprezzi di sole e andiamo Veronica mi chiede di fare un sondaggio a due sono prontissima che è tra Animal Crossing e Happy Home Design e Tomodachi Life vediamo un po' quali questi due giochi di solito vince Tomodachi Life ma visto che Animal Crossing è nuovo vediamo e infatti vince Happy Home Design perché è più uomo giocare poi Dracul Fans mi chiede di fare un sondaggio a due che è tra J-AX e FedEx vediamo che vince tra i due vanno tutti su J-AX Samuel mi chiede di fare un sondaggio a quattro ok prendiamo le quattro scelte Animal Crossing Happy Home Design Animal Crossing New Leaf e Animal Crossing classico e poi New Style Boutique vediamo quale di questi giochi vince attenzione un pareggio tra Animal Crossing Happy Home Designer e Animal Crossing generale mi si è bloccato lo schermo ma ricominciamo poi Belgium Chan mi chiede di fare un sondaggio a due tra Italia e Beyblade e vince Beyblade ah se lo dici te io non conosco nessuno dei due mi spiace Maria un sondaggio a due traggio contro Stratoxina oh oh attenzione un sondaggio interno tutto tutto alla mia isola e vince niente po' di meno che oh no mannaggia Clemente un sondaggio a quattro e via un po' Coniglio contro Criceto contro Topo contro Furetto vediamo quale animale vince ah il Topo vince il Topo strano pensavo vincessi un Furetto poi Alessia un sondaggio a due tra attenzione attenzione Siga contro Nintendo una sfida videoludica vediamo un po' vince 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 Siga sono bravi anche quelli di Siga comunque The Sims e AB040 mi chiede di fare un sondaggio a due Sofia contro Cleo oh vediamo chi sa che vince Sofia ovvia si va andiamo ricominciamo Roberto Z Minecraft contro Terraria che gioco vincerà Minecraft il sondaggio di Tiziana è tra Favij contro PewDiePie e dice PewDiePie tutti andiamo tutti andiamo e Lily Rose mi chiede di fare un sondaggio a quattro tra attenzione attenzione Tai Siamese tradizionale Siamese europeo contro Bengala attenzione questo è un sondaggio tra razze di gatti e vince il Tai Siamese tradizionale sono andati sul tradizionale Pinkie Pie mi chiede di fare un sondaggio a due e tre gatti contro cani questo è proprio un classico sondaggio e vince vincere i gatti è segretissimo non lo diciamo allora Giuseppe Giuseppe contro Stratuxina oh oh attenzione eh attenzione questo è un sondaggio tra la mia sosia contro Giuseppe e vince Stratuxina Olimpia sondaggio a quattro prendiamo qua giocare al computer annoiarsi vedere video vedere video attenzione continua che è lungo e vedere un video tuo su youtube grazie o chiamare la tua amica chiamare amica vediamo un po' quale azione preferiscono in questo momento mi sa giocare al computer e anche io me lo sentivo sinceramente me lo sentivo Pietro sondaggio a due salato contro dolce sei bravissimo Stratux grazie Pietro e vince il salato Eleonora un sondaggio a due notte contro giorno o black and white bellissimo episodio grazie Eleonora grazie e vince la notte un animale notturno ragazzi questi Miri Games Tomodachi Life contro Animal Crossing questo mi sembra a quattro anche se non c'è scritto quindi Tomodachi Life Animal Crossing Super Smash Bros e Super Mario 3D Land vediamo e vince Tomodachi Life sono andati sul sicuro a casa loro sondaggio a due di Eleonora vediamo no ho sbagliato sondaggio a due di Federico Eleonora l'avevo già fatta Nintendo 3DS contro New 3DS vediamo che console prediligono e vanno su New 3DS ma di poco eh di poco di poco di poco di pochissimo Chandrika sondaggio a quattro Logan Kendal James e Carlos ai voti Chandrika ciao Strasussina grazie Chandrika 12 a tutti voi e vince uno due tre James no Carol Kendal che Carol con la K Kendal Ricominciamo Cat Bianca Channel un sondaggio a quattro ok pc tv tablet e telefono vediamo chi vince e vince il pc di poco sulla tv ok ricominciamo e sondaggio a tre tra FNAF MLP e FNAF FNAF ok andiamo e vince FNAF si e anche di gran lunga benissimo siamo giunti a fine dei vostri sondaggi grazie per aver visto i video se siete arrivati fino in fondo mentre questi qua se la giocano a calcio sulla spiaggia io vi ringrazio appunto di aver visto il video fino a qua vi saluto vi mando un bacione a tutti e anche un abbraccio mi raccomando mettete un mi piace se vi è piaciuto continuate a fare i sondaggi se volete che i vostri sondaggi appaiano nel video seguente e poi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e uno ciao a tutti e al prossimo video